Musica Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul Territorio. Ci troviamo a Cortina Tampezzo per incontrare Elsa Zardini, che è la Presidente dell'Unione dei Ladini locale. Bentrovata, Presidente. Buongiorno. Com'è corretto, innanzitutto? Qual è il suo ruolo, per dirlo bene, con la pronuncia corretta? Allora, io sarai Presidente dell'Unione dei Ladini da Tampezzo e vi dago il buon azetto insieme alla nostra scelta, anche se di Pizzola, e una caro di vai che conosce. Ecco, abbiamo intuito quello che ci ha detto, però le chiedo cortesemente di ripetercelo in italiano. Io vi ho dato il benvenuto in questa nostra piccola sede e abbiamo proprio piacere di avervi qui con noi. Grazie, grazie Presidente per l'ospitalità, per raccontare quindi quella che è la vostra realtà, la vostra istituzione, la vostra identità ladina. Ma guardi, noi abbiamo un'identità profonda, delle radici molto profonde che ci provengono proprio da secoli e secoli di storia. Siamo legati a tutte quelle che sono chiamate le Unioni Ladini e del Sella, perché abbiamo avuto una storia comune per 500 anni, quindi abbiamo passato insieme un lungo periodo, abbiamo intrapreso vari percorsi per difendere l'identità, la storia, la cultura, la lingua e in questo siamo molto uniti, in questa associazione madre, noi la chiamiamo così, che è l'Unione Generale della Disdera Dolomites, con sede a Ortisei, che io ho avuto l'onore di presiedere per ben sette anni. Ecco, come voi ci sono delle altre realtà che vi fanno parte. Esattamente, l'Ivina Longo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, per la provincia di Belluno, per la provincia di Trento la Val di Fassa e per la provincia di Bolzano la Val Gardena e la Val Badia. Ecco, ritorniamo però sui Ladini, sulla sezione in particolar modo di Cortina d'Ampezzo. Quindi, la vostra attività quotidiana come si manifesta? Allora, noi intanto per statuto abbiamo il compito di tenere, di salvaguardare tutti gli usi, i costumi, la lingua, le tradizioni e ovviamente l'identità del popolo ampezzano e naturalmente ricordare quella che è stata la nostra storia e le nostre radici. Ovviamente noi facciamo diverse attività in questo campo, sia linguistiche, ma siamo a disposizione per studenti che fanno delle ricerche, soprattutto dall'estero, la questione è molto viva. Poi ci curiamo del costume tradizionale, che noi ancora vestiamo nei matrimoni, nelle cerimonie, nelle feste. Quindi, molto importante anche questa parte, perché le regole del nostro costume si sono tramandate da madre in figlia, di generazione in generazione. Stiamo lavorando proprio a un piccolo libro che diventerà il codice, con i dieci comandamenti per l'uso del costume, perché abbiamo delle regole ben precise. E quindi ci curiamo di questo, ma ci curiamo anche dei turisti, perché facciamo loro vedere, conoscere il nostro territorio attraverso il mercoledì della cultura ladina. Abbiamo avuto un grande riscontro, ormai da nove anni lo facciamo, ed abbiamo un sacco di turisti che ci seguono in questi percorsi storici, culturali, alla conoscenza di una cortina d'ampezzo, che non è quella sportiva delle Olimpiadi, ma è quella delle radici profonde della nostra comunità. Anche perché sappiamo che comunque Cortina vive di turismo. Turismo, ovviamente, che lei citava, è di differenti forme. Abbiamo il turismo sportivo, il turismo culturale, il turismo legato alla natura. Quindi c'è veramente una varietà di possibilità in questo territorio meraviglioso. Certo, noi abbiamo molte possibilità, ma la gente è molto interessata a queste cose, perché noi probabilmente così all'esterno diamo sempre l'immagine del paese turistico, sì, però quello più sportivo, diciamo così, ma quando scoprono questi particolari della nostra cultura, delle nostre radici, veramente si interessano sempre di più e noi abbiamo alle volte anche 150 persone che ci seguono in questi percorsi che facciamo. Quindi è una cosa molto sentita e ci fa piacere, insomma, allargare la conoscenza anche ai nostri ospiti sulla nostra identità. Presidente, lei diceva, ci parlava dei costumi, degli usi nell'abbigliamento. Sappiamo appunto tutto comunica, tutto è comunicazione, l'impatto visivo sicuramente ha un ruolo importante e abbiamo anche dei piccoli esempi con delle pigotte, che sono quelle tipiche di un'associazione di volontariato con il quale c'è una bella amicizia fra di voi, ecco, diciamo così, pigotte dell'Unicef vestite con gli usi, costumi tipici ladini. Ecco, mostriamole una, per esempio. Sì, guardi, noi abbiamo avuto contatti con l'associazione Unicef di Belluno al quale abbiamo proposto di far indossare alla pigotta l'abito tradizionale ampezzano. Abbiamo dato tutte le direttive perché la pigotta fosse perfettamente vestita e pettinata come facciamo noi quando ci vestiamo. Loro hanno aderito a questo progetto, ne hanno fatte tantissime, ne hanno distribuite un sacco perché è piaciuta molto l'idea, la particolarità. Anche i turisti hanno veramente gradito questa cosa perché, come possiamo vedere, anche la pettinatura e tutto quanto, gli accessori sono fatti proprio in modo eccellente. Allora, ricordiamo, innanzitutto, anche il valore benefico dell'iniziativa perché sappiamo la pigotta di Unicef è dedicata proprio a sostenere le attività delle associazioni che si adopera per i bambini. Io le pregherei di descriverci l'abbigliamento una alla volta magari, così comprendiamo per bene. Allora, intanto possiamo cominciare dicendo che a Cortina noi abbiamo la bellezza di ben quattro costumi importanti. Allora, questo è quello, è la Ravarnazza, come la chiamiamo noi, è quella più estiva, è il primo abito tradizionale che indossano le bambine, quando sono già piccole e vestiamo già così, perché prendano amore per il costume. Quindi è il primo proprio che la donna ampezzana mette. Poi abbiamo quelli più importanti di questo, che sono Ramagnes, che mettiamo nelle feste importanti, Rajaida, che è la versione diciamo così autunnale, invernale, un po' più sobria di questa Ramagnes, e poi abbiamo il costume chiamato così a Raveccia, che è quello del 1700, che poi è stato modificato dalle donne di Ampezzo con l'evento del turismo. Nell'Ottocento sappiamo che Ampezzo già era un posto importantissimo per i turisti, soprattutto dall'estero, e le nostre donne un po' sfiziose hanno accoppiato, hanno messo dei cappelli con le piume, quindi hanno variato leggermente il costume. Diciamo che dall'inizio del 1800 a oggi tutte le regole sono rimaste invariate e quindi insomma anche questo è una bella cosa e che le giovani lo vestono ancora, anche questo è una cosa molto importante. Ecco, com'è composto? Allora è composto, come potete vedere, da una sottogonna nera, che noi chiamiamo ciamesotto, da questo grembiule che noi chiamiamo Pallegrain, molto bello, che può avere variati colori, che deve essere sempre accompagnato, comunque è questo foulard con le frange e deve essere sempre in tinta per accompagnarsi bene e come possiamo vedere la pettinatura che noi chiamiamo chou è una specie di crocchia, se la vogliamo chiamare così, o di chignon con le trecce intrecciate ed abbiamo poi questi tre, ma adesso questi ovviamente non sono veri, ma sono dei gioielli, delle creazioni importantissime che i nostri orafi facevano. Adesso abbiamo l'ultimo orafo che lavora ancora in modo tradizionale. Faremo una mostra importante quest'estate perché questi gioielli che noi mettiamo sono praticamente la riproduzione dei fiori di montagna, di montagna che poi si muovono sulla testa delle donne ampezzane per abbellire la figura e anche i capelli della donna. Quindi anche la parte proprio dei gioielli, comunque degli elementi ornativi a maggior ragione. Sì, è molto 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 curato quel particolare perché i nostri antenati, proprio questi gioiellieri, prendevano proprio i fiori dal campo, li ponevano sul tavolo di lavoro e poi un'altra particolarità molto bella è che quando la donna muove la testa questi fiori devono muoversi leggermente come quando la brezza sfiora i fiori nel prato. Quindi c'è dietro una storia, una cultura, tutto viene pesato in modo che il movimento sia perfetto come un leggero vento che sfiora i fiori. Quindi ci sarebbe da raccontare un mondo sul costume. Una poesia magnifica. E c'era anche un altro esempio di pigotta abbigliata. Ci mostra anche questa qui? Sì, anche questa. Questa è molto particolare perché vedete che ha un grembiule nero e un fazzoletto giallo. Questo era quello che indossavano le donne il giorno del compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe. Qui sapete che era Austria. Il 18 agosto, in omaggio all'imperatore, le donne vestivano i colori della famiglia d'Asburgo. Quindi il nero sotto, il giallo sopra. Quindi questa tradizione è rimasta. Non lo facciamo più, ovviamente l'imperatore non c'è più, siamo in Italia. Però questi racconti sono rimasti e quando abbiamo riprodotto le pigotte abbiamo voluto fare anche questo particolare che è interessante. anche chi le comprava, chiedeva, è una cosa molto interessante e quindi è particolare il nostro costume. Ecco, quindi questo giusto per dare un esempio così. Poi ricordiamo che, ne accennava poco anzi, ci sarà una mostra. Sì, quest'estate noi lavoriamo in collaborazione con le regole d'Ampezzo. Praticamente noi siamo un'emanazione delle regole d'Ampezzo e faremo al Museo Etnografico delle regole faremo una mostra proprio sui gioielli antichi, proprio quelli addirittura che venivano dalla scuola della filigrana perché qui la scuola d'arte nel 1800 aveva una sezione dedicata alla filigrana. Sappiamo benissimo che quest'arte gli ampezzani l'hanno imparata a Venezia che veniva dall'Oriente ovviamente con i commerci di Venezia però loro erano diventati talmente bravi a lavorarla cioè avevano affinato quest'arte fino ad arrivare a lavorare un filo d'argento che aveva la grossezza di un capello quindi sono dei capolavori, ci mettevano dei mesi per creare un fiore. Erano dei veri e propri maestri d'arte, questo era davvero il cuore della loro attività. Senta Presidente, ovviamente abbiamo parlato dei costumi ma la lingua ha un ruolo davvero di primo ordine. La lingua ha un ruolo di primo ordine e noi parliamo ancora all'ampezzano anche se ovviamente non potendolo insegnare nella scuola è un po' più difficile. Sappiamo anche che a Cortina abbiamo molte persone che sono immigrate quindi non siamo tutti autoctoni, quindi non possiamo pretendere che gli altri parlino la nostra lingua. Però noi cerchiamo di tenere duro per salvarla perché la lingua di fatto è una cosa molto importante. E diciamo proprio parlando di lingua, parlando di comunicazione c'è anche un giornale, un periodico che vi caratterizza, che vi riguarda. Sì, questo giornale che si chiama Uche di Ladis è un settimanale che esce proprio da questa... Questo lo do a lei così ce lo mostra per bene. Questo è fatto con le cinque varianti del ladino del Sella, diciamo così, quindi Badiotto, Fascian, Gardener, Ampezzan, Fodom e Dacol. Esce tutte le settimane, c'è una redazione in ogni paese, quindi abbiamo una redazione anche qui a Cortina e tutte le settimane tutte le notizie convergono alla sede di Ortisei e poi viene stampato il giornale con i contributi della regione Tentino Alto Adige, delle due province Trento e Bolzano ma anche dello Stato italiano a tutela delle minoranze linguistiche. Ecco, Presidente, come la pandemia ha in qualche modo condizionato ovviamente anche la vostra attività e come invece questo periodo di ripresa, adesso c'è proprio la stagione anche turistica estiva che comunque sta entrando pian piano nel vivo, ha in qualche modo permesso di ritornare invece a quello che è proprio il fiore della vostra attività? Sì, noi abbiamo rallentato un attimo ovviamente come tutti quanti, diciamo che comunque il giornale è andato comunque avanti perché quello va avanti da solo, ci siamo riuniti non in presenza ma in videoconferenza e con gli altri ladini ovviamente però diciamo che l'anno scorso abbiamo potuto fare questa attività del mercoledì della cultura ladina fuori all'aperto quindi bene, quest'anno riprenderemo in pieno con qualche incontro anche all'interno ovviamente qualche mostra qualcosa e quindi bene che si riprende questa attività e speriamo bene che la pandemia ci lasci lavorare in pieno perché effettivamente insomma è stato un po' lento il lavoro ma insomma noi speriamo, siamo attività E c'è sempre grande entusiasmo anche per avvicinare ovviamente ancora più le giovani generazioni, i bambini, le bambine Guardi, io devo dire la verità che all'interno del mio consiglio io sono la più anziana E ho tutto un consiglio di ragazzi giovani, molto motivati ragazzi e ragazze, molto motivati che ci tengono al paese, alle tradizioni, agli usi costumi e quindi bene, il paese è ancora vivo, è molto legato alle sue tradizioni, tanto che i ragazzi alle volte anche fanno osservazione su qualche tradizione Lo abbiamo letto anche sui giornali che magari non ha potuto essere svolta al massimo proprio per la pandemia Ecco, ce ne racconta ancora una così che le viene in mente qualche tradizione velocissima Per esempio la tradizione di San Nicolò che arriva il 5 dicembre qui da noi in piazza da molti anni e che distribuisce ai bambini sia dei dolci ma anche un libretto di cultura pezzana proprio con la lingua dove ci sono dei giochi dove ci si può insomma indirizzare anche a un approccio linguistico che quest'anno non è stato in presenza ma sono stati distribuiti a scuola questi pacchetti con i libri e insomma non è stato proprio tanto gradito diciamo così avrebbero preferito poter fare, si sono un po' lamentati ma quest'anno speriamo di poter riprendere abbiamo anche 4-500 bambini ma non solo di Cortina che provengono magari anche dal Cadore con questa figura in collaborazione col Comune e la filodrammatica d'Ampezzo che è l'associazione del teatro che ci dà appunto il personaggio che interpreta il santo ma è una cosa studiata proprio culturalmente anche religiosamente cioè è una cosa molto profonda non un'improvvisazione no addirittura San Nicolò veste un piviale vero proprio acquistato in un negozio di paramenti sacri quindi una cosa molto reale poi qui in parrocchi abbiamo anche una reliquia di San Nicolò quindi il parroco esce sul sagrato della chiesa dove ci sono i bambini e impartisce la benedizione con la reliquia quindi una cosa molto anche religiosa molto molto sulla veridicità della vita del santo ecco e quindi vediamo comprendiamo da questo che stava raccontando come anche vi sia un attaccamento comunque dei giovani a quella che è la propria tradizione le proprie la propria cultura ecco vede qui si nasce già a casa cominciano a insegnarti quali sono anche i doveri grazie anche all'istituzione regoliera perché noi abbiamo determinati doveri e determinati diritti quindi già da bambini si cominciano a insegnare questi doveri che abbiamo verso la comunità verso la propria terra e verso i propri usi e costumi bene allora Elsa Zardiniola ringrazio per il tempo che ci ha dedicato ovviamente ci ritroveremo ancora per raccontare queste meravigliose tradizioni e quella che è la vostra identità grazie ancora grazie a voi a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti